Ciao a tutti amici di Marina Romea Tennis, oggi vediamo, parliamo della risposta al servizio, quindi allenerò il mio allievo, cercherà di rispettare le indicazioni che gli darò, quindi anche tatticamente ma anche tecnicamente. Quindi vediamo, partiamo con il servizio da destra, quindi quando vi serviranno da destra il vostro avversario e voi dovrete rispondere una palla in slice, quindi che esce un pochino o nell'angolo, cerchiamo di, su un campo veloce, su un campo insintetico o un veloce come questo, cerchiamo di fare un movimento molto abbreviato, quindi non con una grande preparazione dietro, ma con un movimento solamente davanti a noi, cerchiamo di sfruttare la velocità di palla in arrivo. Cerchiamo di tagliare il campo assolutamente, dopo lo vedremo, cerchiamo di tagliare il campo, quindi carico, sidestep, apro, carico sulla gamba destra, impatto, come vedete, cercando di tagliare il campo per non fare uscire troppo la pallina, quindi andare fuori dal campo con i piedi, quindi non devo andare fuori dal campo con i piedi, devo cercare di farlo meno possibile per non perdere campo, perché altrimenti sul colpo successivo dell'avversario sarei tagliato fuori. Quindi da destra questo e cerchiamo di mandare la nostra palla in diagonale, profonda, magari anche un pochino alta se siamo in ritardo, oppure rispondiamo decisi se siamo in vantaggio, più vicino alla rete o centrale, ok? Cercate di evitare la risposta in lungo linea. Quando invece l'avversario vi serve al corpo, benissimo, cercate anche qui preparazione compatta, compatta, cerchiamo di rimandare la palla molto lunga, possibilmente nei piedi all'avversario, quindi togliergli tempo in uscita dal servizio, quindi centrale o diagonale se avete tempo per portarlo fuori dal campo o sul rovescio se trovate il vostro avversario un pochino debole sul rovescio. Se vi servono alla T, quindi al centro del campo e alla T per quanto riguarda il servizio, cercate anche qui, carichiamo sulla gamba sinistra, tagliamo il campo, rimaniamo compatti, giochiamo centrale o sul rovescio dell'avversario. Mentre quando andremo a rispondere alla sinistra, quindi alla nostra sinistra, cerchiamo assolutamente, apro carico sulla gamba sinistra, taglio il campo per non perdere campo assolutamente dalla parte del rovescio. Cerchiamo di rispondere centrale o in diagonale per poter avere il tempo di recuperare il campo. Se rispondere lungolinea, lo dobbiamo fare solamente quando si è in anticipo, quindi su una seconda palla, non sulla prima, e se sento di prendere tempo all'avversario. Quindi la risposta nei piedi lunga è sempre tatticamente corretta per prendere un po' in contropiede il nostro avversario. Ora, poi abbiamo visto il servizio alla T anche da questa parte, bene, una risposta compatta in modo da giocare un colpo profondo al centro, nei piedi del nostro avversario o in diagonale. In diagonale troviamo il rovescio del nostro avversario, quindi benissimo. Risposta alla T anche qui cerchiamo di tagliare il campo, in contro, movimento abbreviato, centrale. Se abbiamo il tempo e vogliamo impostare lo scambio in diagonale, quindi giochiamo sul dritto, ma se vogliamo far pressione al nostro avversario sul rovescio, e se lo vediamo debole, cerchiamo di rispondere sul rovescio, ma facendo passare la palla un po' alta sopra la rete. Sempre consigliabile quindi una risposta profonda, alta, in diagonale, in questo caso, così da non perdere troppo campo. Ora vediamo il nostro allievo in azione. Bene, spero che questo consiglio possa essere utile anche a qualcuno di voi, a voi che mi seguite, se è così vi invito a mettere il like al video, ma anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Seguite anche la nostra attività, se volete partecipare al nostro stage dal vivo, potete cliccare la scheda che vedete comparire qui in alto a destra. Nella descrizione del video entrate sul nostro sito web. Io andrò a servire, ad eseguire il servizio da tre quarti campo, in modo da non dare troppo tempo al mio avversario, al mio allievo, di preparare il colpo, quindi creargli una difficoltà aggiuntiva, e poter servire con maggiore continuità dentro al campo. Regia, ti metti, ecco, se riesci a inquadrare il nostro allievo, andiamo. Ok, taglia bene il campo, ecco, il nostro allievo ha perso troppo campo, devi imparare a tagliare un pochino di più, ad eseguire una preparazione più corta, breve, e incontrare la palla in arrivo. Via, taglia un po' meglio, bravissimo, sei riuscito a dare profondità, ancora. Spostiamo un attimo il cesto, vai. Ok, taglia, bene, taglia ancora un pochino di più, cerca di rimanere basso e compatto, taglia, via. Bravo, bravo, ottimo, ottimo, bene. Proviamo qualche servizio al corpo, vediamo come si comporta. Ok, bene, risposta alta e profonda, ottima. Vediamo, ok. Attenzione, la palla comunque, come avete visto, aveva giro, aveva slice, quindi il nostro allievo non è riuscito a trovare la distanza corretta. Ok, lascia, lascia pure, proviamo il servizio alla T. Ok, via. Benissimo, profonda, cerca di incontrare un pochino di più la palla, andare incontro, a cui arrivi tempo, cerca di mettere peso sulla palla. Via, ok, attenzione, non troppo veloce il movimento, non troppo di polso, rimani compatto e cerca di far scorrere bene il braccio in avanti, non farlo salire in alto, altrimenti dai altezza, rotazione, ma per togliere tempo all'avversario la palla deve essere più tesa, più veloce. Via, ok, questo è perfetto, bravissimo. Ora andiamo da sinistra, regia, segui il nostro allievo, proviamo. Attenzione, qui potete trovare il vostro avversario, che vi serve in kick, quindi alto sul rovescio, anche se questa superficie non fa rendere questo tipo di servizio, ma attenzione, cerchiamo di tagliare il campo. Ok, arriva. Attenzione, via, taglia incontro. Palle nuove, palle veloci, quindi movimento breve, cerca di tenere il piatto corde un pochino inclinato per non far salire la palla, ok? Via, incontro, bravo. Dovevi tagliare un pochino di più il campo perché avevi il tempo, attenzione. Questo non era un servizio veloce. Taglia anche questo, non era un servizio veloce, dovevi tagliare di più il campo e rimanere solido e compatto. Attenzione, attenzione, cambio anche la traiettoria. Via. Al corpo, dai profondità, non scappare indietro, rimani basso e spingi con le gambe anche. Ok. Abbastanza bene, però attenzione, cerca di rendere più pesante la tua risposta perché questi non erano servizi complicati. Via. Attenzione, bene. Ha avuto il tempo di spostarsi sul dritto, dovevi giocare però la palla più lunga, più profonda e un pochino più alta. Via. Attenzione, non portare troppo indietro la racchetta. Sei caduto un po' all'indietro e sul posto. Meglio rimanere più compatti con la preparazione per non perdere il timing e cercare di scaricare il peso del corpo sulla palla. Non giochiamo troppo di polso, di mano. Ecco, attenzione lì. Bravo, abbastanza bene. Bene. Ok. Spero che anche il video di oggi possa essere utile per migliorare il vostro gioco, il vostro tennis, la vostra tecnica, ma anche la vostra tattica, quindi i vostri schemi di gioco, le vostre scelte, soprattutto nella risposta al servizio, per essere un pochino più aggressivi, tenere il campo e non lasciare nel game di risposta campo libero al vostro avversario. Se volete partecipare ai nostri stage, potete cliccare qui nella descrizione del video o sopra nella scheda che vedete passare e potete così trovare le informazioni che vi servono per poter saperne anche di più su di noi, visitate il nostro sito web. Alla prossima, Roberto.